Ciao ragazzi, sono a Londra, nella mia stanza d'hotel, pronto per andare a dormire. Hanno liccato il trailer di GTA 6 e quindi facciamo la reazione. Sarà un po' accroccata perché ho solo il telefono. E voi, fatemi sapere che ne pensate. Io non so cosa aspettarmi. Sto cercando tutti i modi per fare sta cosa, non ci riesco. Inoltre, sono abbastanza sicuro che sto video me lo butteranno giù. Quindi, l'unica soluzione che ho trovato è questa. Cioè, ragazzi, tanto voi l'avete già visto, quindi vabbè, l'avete visto mille volte. Però, vedere la mia primissima reazione a tutto questo e poi lo vediamo. Ragazzi, guarda che stiamo a fa, eh, guarda che stiamo a fa. Allora, 3, 2, 1, si va. Ragazzi, è andato. Ok, quindi Vice City, ma si era capito? Ah, questa sta in carcere. È la protagonista femmina. Guarda che posti. Allora, ragazzi, mi aspetto una mappa gigantesca, roba incredibile, eh. Questa è molto Vice City. Ma, no, non ho pensato a fosse un film. Ma che roba! Poi, ragazzi, è da capire i personaggi come saranno. Uh, già sta roba, te bloccano il video, va bene. Nello strip club. Ragazzi, Miami è particolarmente esagerata come città, eh. Uh, Vice City, ovviamente. Ah, ci sono pure i social. No, vabbè, ragazzi, ma... Cioè, te bloccano. Cioè, più diventa reale l'alligatore dentro e più diventa un casino per noi su YouTube. Ok, cioè, è incredibile. Guarda che roba che hanno creato. Che cacchia di roba. Questo è l'altro protagonista. Sarà assurdo, ragazzi. Ecco, io sono indeciso se fare la serie o no, perché, ragazzi, ci stanno un sacco di problemi. No, è ok, questi chiamano pure. Ma come fa a farla, sta serie? Ma come si fa? Però c'è di essere troppo assurdo. GTA 6. Oh, quando esce? Grande Aftato. Com'è il 2025? Ma no, ma non puoi far mosciare così? Ragazzi, ho rivisto un paio di volte il video. Ovviamente questa è una reazione super a caldo, voi vedete. Si vede pure come sto messo. È una roba anche storica. Peccato che se sia fatta in queste modalità. Ma io immagino tutti quelli che avevano programmato la live. Era tutto pronto per un evento gigantesco. che purtroppo è stato rovinato dai soliti leaker, da quelli che purtroppo pare proprio che godano a rovinare le sorprese. Cioè, ragazzi, mancava poche ore. Ma perché, no? Poi da capire nel momento in cui registri neanche mi sono informato e non so come mai e chi è stato a riccare questo trailer, no? Però, ragazzi, davvero, da sto punto di vista, e lo voglio dire subito sta cosa, qua ragazzi proprio lo fanno sistematicamente. Cioè, adesso era il mondo che dopo dieci anni aspettava questo momento. Stavamo tutti rivolti con l'attenzione a scoprire quello che poi hanno mostrato, ragazzi, che comunque è una figata, eh. Poco. Cacchio, fammelo godere, no? Ecco, secondo me, ragazzi, più si andrà avanti e meno libertà e possibilità ci sarà per gli sviluppatori per stupirci. Te rovinano la sorpresa, cioè... Ragazzi, vi parlo brevemente, perché poi qua è tardissimo, lo devo pure montare col cellulare, scusate i mezzi tecnici che sono stati quelli che sono stati, sperando che i Rockstar non me li butti giù. Ragazzi, è stato figo. Il telefono e dalla televisione sembra una grafica assurda, cioè, un salto tecnologico, che tu dici, com'è possibile? E invece è possibile, ragazzi, perché già in Red Dead Redemption avevamo visto cose incredibili e pazzesche, rispetto a tutto il resto, cioè... C'è stato un frame che ho detto, oddio, ma non è un gioco, no? Lo so che voi siete stati attratti da cose un po' così, però... Pure questo è un po' preoccupante, se pensate a YouTube quanto è censorio da un certo punto di vista. Sì, hanno mostrato i due protagonisti, mi è sembrato prevalentemente sulla protagonista femminile, non so il nome, non to' cotto e mangiato sto video. Lo vedi così, sembrerebbe lei un po' più protagonista, però semplicemente è il trailer 1, ti stanno presentando prevalentemente dove si svolgerà la storia, Vice City, Miami, che abbiamo già conosciuto, tra l'altro Vice City, uno dei miei preferiti, perché la cosa bella, ragazzi, è che voi state qua e magari avete giocato solo GTA 5, ma io, il primo GTA è stato GTA 3, pure se non c'avevo la testa, ma il mio primissimo GTA che ho giocato è stato GTA Vice City, con Tommy Versetti, ma che ne sapete voi? Sì, potete recuperarlo adesso con la Remastered, però ragazzi, non sarà mai come giocarlo. Poi c'è stato San Andreas, poi il 4 e poi il 5. Quindi, insomma, ragazzi, ho una certa esperienza nei vari GTA, però mi aspettavo questo, io so che magari molti di voi hanno in testa GTA Online, non vedono di fare cose pazzesche, ma quella cosa arriverà molto dopo, ragazzi, quindi prima ci sarà tutta la componente del gioco, quello che è realmente GTA, quindi la storia, e sta storia, da quello che hanno mostrato, sembrerebbe una storia alla Bonnie e Clyde, no? Cioè, due amanti criminali, fuggiaschi, che scappano, fanno rapine. Odio, a me mi è sembrato pure che ci potrebbe stare qualche storia di cartelli, piuttosto che, no cartello, però, tipo gang, no? Il vostro è meraviglioso, ragazzi, vai sì, ti sembra incredibile. Io non vedo l'ora di esplorarla, credo che la mappa sarà 200 volte più grande del 5 e via dicendo. Chiaro che più grande è e meglio è. Poi staremo a vedere dentro che ci infilano. Ragazzi, qua c'è davvero da aspettarsi di tutto, letteralmente. Di tutto. Poi, di gameplay, in se per sé, non abbiamo visto niente, quindi era una cosa che mi aspettavo. Cioè, trailer 1, te mostrano cosette, poi per le più liccate. Spero che abbiano un po' ridotto l'iperrealismo. Che vuol dire? Avete giocato a Red Dead Redemption? Cioè, facevano passo ogni 10 minuti? Cioè, là c'è proprio più realismo che realismo? Mentre il GTA è sempre stato pure un po' cazzone, no? Cioè, sì, fammelo realista, fammi cose... Eh, però, fammi pure divertire, fammi un po' più arcade, no? Cioè, io non voglio che si flette il muscolo quando cammina. Cioè, è bello, sì, è figo. Sei bravissimo a farlo, però fammi pure un po' divertire, ok? L'abbiano un po' modificato, però, vedendo quanto è realistico, non lo so. Ci sono sempre scene pazze, tipo la vecchia... Guarda, stiamo in America. Poi quella è un'America particolare, eh. Ripeto, Miami è molto latina. Quindi, insomma, boh, mi aspetto tanto, ragazzi. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. C'abbiamo qualcosina sulla protagonista. Abbiamo visto in carcere. Poi è impegnato, ecco, a fuggire. Gli dice che l'unico modo per stare, insomma, per uscirne è stare insieme. Visto così mi è sembrato lui il sottone, ma è chiaro che è solo il primo delle level. Se non c'entra più sulla figura della ragazza, ci sarà pure quello dove il ragazzo uscirà fuori. Quindi, insomma, ragazzi, ci aspettiamo il solito passaggio da uno all'altro. Tranquillissimo, perché è Rockstar, cioè, è GTA 6, non può fa schifo. È solo da capire che possono fare di più. Cioè, così sembra una roba pazzesca. Stiamo nella camera d'albergo a Londra a provare un altro gioco che vedrete. Prima di GTA, perché sta nel 2025. Ecco, sta cosa, ragazzi, mi ha un po' buttato giù. Io, solitamente, per queste cose c'ho sempre poco hype. Vuoi dire, tu, ma che stai a dire? Cioè, sì e no. Però, mo' c'ho poco hype, perché sapevo, mi aspettavo, ecco, di vedere poco. È andata così, però 2025 è tanto, ragazzi. Anche perché 2025 quando? Settembre? Oh, stava arrivando. Cioè, due anni dobbiamo aspettare ancora. Però, se è quello, è tanta roba. Ora, speriamo che la prossima volta non ci disturberanno i leaguer. Voi, ragazzi, fatemi sapere che ne pensate. Scusate se ne avete visto cose un po' strane. Ho detto la mia in maniera proprio cotta e mangiata. Però volevo farla subito, perché, insomma, saremo invasi. Sì, ecco, questo è da parlare, perché farò la serie, c'ho due problemi. Il primo è che, ovviamente, sarà tutto in inglese. Voi sapete che è tutto in inglese su YouTube. Attualmente, con una storia che dura un sacco di tempo. Non lo so. E l'altra è, ragazzi, hai visto che immagini hanno mostrato? E qua si rischia, no bollino giallo? Si rischia molto di più. Metti una che mescoletta, o quello che si spara, o il linguaggio che utilizzano. E diventa difficile, eh? Comunque, fatemi sapere.